Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, oggi parliamo di news nel mondo della simulazione di guida. Prima informazione molto importante è la risposta di Studio397 agli interrogativi che tutti ci stiamo facendo. Mastolemans, come si fanno le 24 ore? Ciccio, mica ci abbiamo tutti il tempo di stare 24 ore dietro il pc perché è quello che hanno annunciato, la possibilità di fare delle 24 ore reali. Bene, hanno inventato la modalità gara asincrona, cioè vuol dire che io e io un amico vogliamo fare un 24 ore, bene, si può fare a più tappe, cioè possiamo salvare il gioco in pratica. Io sono libero il lunedì, lui il martedì, inizio una sessione io che ne so di un'ora, poi rientro in box salvo e lui può riprendere la partita in modo asincrono e continuare la 24 ore. Ovviamente di questo passo ci metteremo 24 giorni, però è una modalità in più per poter affrontare le 24 ore dando, quello che dice Studio397, la vera importanza del gioco di squadra e questa cosa qua, questa mentalità mi piace. Quindi aspettiamo per avere altre novità news che è previsto normalmente a fine anno. Bene, vediamo un'altra news ragazzi, GTR Revival. Ragazzi questo in realtà dovrebbe essere il GTR 3 che aspettiamo da anni che si vedevano dei flash di queste immagini fichissime, mi ricordo questa Porsche nella penombra così fantastica. Va bene, si chiama GTR Revival, va benissimo. Hanno appena concluso una pre-build interna dove stanno testando delle auto che non sono GT3 e questo a mio avviso è una buona notizia, perché sempre le GT3 dopo un po' uno, cioè ci sono già dei titoli dedicati, no che non mi piacciono, mi piacciono però cambiamo un po'. E le immagini sono veramente molto fighe, quindi l'intento è quello di ricreare le vecchie emozioni che davano i simulatori all'inizio degli anni 2000, quindi se ci riescono ragazzi sarebbe veramente una figata pazzesca. Non sappiamo nulla a livello tecnico, però questa informazione già mi fa presagire che sta per uscire qualcosa di veramente molto buono, perché era da tanto tempo che lo aspettavamo questo sequel di GTR 2. Sì sì, secondo me è proprio il sequel. E veniamo alla fine all'ultima informazione, news importante secondo me, è che parla di Reg Simulation. E qui ringrazio Vincenzo Nixos123 che consiglio di andare a vedere il suo video, perché mi ha raccontato rapidamente la storia di questi ragazzi. Reg Simulation è un gruppo di ragazzi argentini che si è rotto le scatole, per non dire altro, di farsi rubare le mod su Assetto Corsa. Sì, perché è un gruppo di ragazzi che ha fatto questo team di sviluppo, che facevano delle mod per Assetto Corsa 1 e che purtroppo si facevano fregare le loro mod, piratare le loro mod, crackare le mod, chiamatele come volete. Quindi per evitare questo, perché comunque per fare una mod ragazzi ci vuole tanto lavoro, ci vuole talento, ci vuole tempo, ci vuole un investimento di un sacco di cose, magari non ci rendiamo conto e quindi per a volte risparmiare quel 5 euro andiamo, compri tu, capisco, l'abbiamo fatto e lo fanno tutti voglio dire, però allora questi ragazzi dicono, va bene, è così la storia, ok, mo va giusto io, facciamo uno studio di sviluppo e creiamo il nostro gioco. Pista Motorsport, che sarà incentrato sul Motorsport Argentino. Vabbè, non conosco il Motorsport Argentino, però sono dei ragazzi argentini, quindi lo fanno lì a casa loro, in cui già hanno dichiarato di aver fatto due circuiti, l'autodromo San Nicolas e l'autodromo Roberto Cosè Muras, che non conosco, devo andare a vedere, ma non importa, perché è una bella notizia ragazzi, perché vuol dire che hanno già messo mano concretamente a farlo. E inoltre non si hanno ancora notizie in merito a che motori grafico utilizzeranno, però hanno dichiarato che utilizzeranno i dati LiDAR. I dati LiDAR, per chi potrei prendervi la definizione, ma lasciamo stare, è per un laser scan. Hanno dichiarato che sono già riusciti a fare un modello fisico per quanto riguarda la creazione delle pozzanghere e il prosciugamento delle pozzanghere, quindi già si parla di meteo, quindi fighissimo. Hanno già annunciato che hanno preso la 600 Abarth da Assetto Corsa e l'hanno convertita nel loro gioco già, e in più hanno annunciato già di aver fatto la Fiat 1, perché quei campionatini argentini-brasiliani gli piacciono queste macchinette qua. Quindi sarà incentrato sui campionati motorsport argentini, faranno una specie di carriera progressiva che uno deve partire dal kart per arrivare alla massima serie, che non so quale saranno a stoccare, non lo so, forse una formula. In ogni caso è un'ottima notizia ragazzi, perché è ancora tanta carne al fuoco per noi e quando si generano questo tipo di concorrenza è importante anche a livello di mercato. Quindi ragazzi, della speranza che queste notizie vi siano piaciute, io vi invito a lasciare un commento come al solito, a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale che è importante ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina. Noi come al solito ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!